L'esperienza fondamentale del perdono è la via maestra per la costruzione della pace. E' il pensiero che è stato al centro dell'incontro tra Papa Francesco e i principali capi religiosi cristiani del Sud Sudan. In un paese dove le tensioni dividono la popolazione, si legge in un comunicato della Sala Stampa Vaticana, è stato preso atto della proficua collaborazione fra le Chiese che prioritariamente vogliono contribuire a promuovere il bene comune, tutelare la dignità della persona, proteggere gli indifesi e realizzare iniziative di dialogo e riconciliazione.